Sì, tu! Lei, tu o lei? Posso darvi a vedere tu? Tu allora, vedi i numeri? 6, 3, 4, 2, 5, 1. 6, 3, 4, 2, 5, 1. Ok, bellissimo, ordine d'entrata è questo. No, scusa, ancora un po' di luce, Paolo, grazie. Ehm, la signora con gli occhiali là in fondo. Sì, lei, lei che si scorge. Una parola a qualsiasi. Per cui c'è? Aria. 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 È una situazione maledetta di fare prendere Aria alla casa. Non l'ho capito mai. In una povere, in un risco di gioco. Bravo, no? Perché c'è l'aria. Che bello. Mi resta in zona di questa nata. Posso stare 3 minuti tranquilla? Per étantlo... No, perché ci sono gli uccellini? Apriamo! No, perché è così in fatto il sole. Apriamo. Ciao amore, come stai? Che bello. Che bello. Ah, no, vieni, vieni, vieni qui, mamma mia, un pitticazzo. Ammattiamoci. Buon bene. E Miriam e Michio. Ma chiamo, non ci vediamo più. Sì, vorrebbe essere questo. E' questo. Non ci provate. Ma non c'è che ringrazio sentire l'aria che entra a cadere i miei capelli e mi fa sentire più giovane. Io me ne vado, me ne vado perché mi sopporto, mi sopporto, mi sopporto, mi sopporto. Ciao. Ciao. Papà, papà, qui là la mamma ha chiuso tutto. Il fratellino ci ha chiuso tutto. Non ci sei da venire. Solo il fratellino. Il fratellino ci chiede, non è sopportato. Ma non c'è che ringrazio sentire l'aria che entra a cadere i miei capelli? Ma non c'è ringrazio sentire? Vanno a mettere il subito perché... Ma non c'è che ringrazio sentire? Ma non c'è ringrazio sentire? Ma non c'è ringrazio sentire? Oh! Prendila! Mi deve aprire la porta! Salve, siamo della disinfestazione, dobbiamo assolutamente chiudere tutto. C'è un'infezione di malaria, concentrata all'interno di questo edificio. Dobbiamo assolutamente sigillare tutte le finestre. Porto e chiudervi tutti i sacchi di plastica, questi. Entro dentro il sacco. Si è accettato bene, mi raccomando. Ecco, così, bene, ok. Ora, procedo a chiudere. Minestra uno, finestra due. Finestra tre. Ed ora, vai col compagno. Dobbiamo togliere tutta l'aria in fretta. Ed ora, rottovi via, cuore. Non mi metto in sicurezza, guardate. Via, 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 via. Potranno morire tutti. Non ci sei? Sigilliamo? Abbiamo sigillato, sì. Però sì, dobbiamo respirare nell'altra stanza. Ci sono delle cose. Devo andare a rispondere a loro. Sicuramente ci saranno i genitori, altri figli. E dammi anche un po' di nonfora, signore. Perché potrebbero correre gli stessi. Avvisa centrale. Ok. Sarà fatto. Disinfesteremo. Sì, disinfesteremo! Molto! Nei, mi sembra tornare più qui. Ma a te nemmeno l'interno. Sì, ma a te nemmeno l'interno. Ciao Luisa! Ciao Luisa! Chi è? Dove è tu? Stiamo testando la casa, non c'erano qui. Stiamo qui. Perché? Mi sorpresse la donna Luisa! Cosa stai facendo? Ma cosa fai? Mi lasci stare! Io sono della testazione. Ma che sono la fidata? C'è il no! Ma non la fidata! Ma non la fidata! Iniziale con lui! Luisa! Ecco la casa che sono più desiderata! Grazie! Grazie!